Guardate che animale meraviglioso, eh? Ok, ci piace? Saluto un po' gli amici di Like New. Dai, salutali tutti, eh? Sono qui alla falconeria con Giovanni e Loredana e mi hanno fatto questo bellissimo regalo di tenere questo animale meraviglioso. L'aquila, che è il simbolo supremo, perché vole in alto e guarda la luce. Guardate che spettacolo. Vediamo se riesco a fargli aprire le ali, vediamo. Guardate che bello, eh? Stupendo. Meraviglioso. È un animale fantastico. Veniteci, perché noi qui organizzeremo anche dei raduni. Ci sarà un posto dove faremo le nostre riunioni simboliche, esoteriche, per i nostri seminari. Abbiamo intenzione di fare delle cose un weekend intero a contatto con gli animali, con questi animali stupendi, mistici, che ci possono insegnare tanto. Veniteci. F.C. Falconeria, mi raccomando, si trova dalle parti della Toscana. Cosa dirvi? È un posto mistico. Organizzeremo tante cose. Va bene? Fatemi sapere sotto nei commenti. Un abbraccio. Saluta. Saluta, cara. Atos, saluta. Dai, saluta. Ciao. Dai, saluta. Ados. Dai, saluta. Dai, saluta. Asa, saluta.